Cari amici, è con grande piacere che vi sottopongo alcune considerazioni che hanno fatto Deborah Billi e Arnando Vitangeli su Il Puzzle, il canale che è sempre la finanza sul web, ha cambiato nome perché ormai si occupano di cose che esulano dal mondo finanziario. Vi invito a iscrivervi perché Arnando Vitangeli e Deborah e anche Martina Giuntoli che cura la rubrica La Maga dedicata alle lezioni americane secondo me sono una punta di diamante della vera informazione, non parlerei di controinformazione ma parlerei di vera informazione come si parla di vera chiesa per quanto riguarda il sodalizio mariano di Don Minutella e di falsa chiesa. Ecco, c'è una vera informazione e una falsa informazione. Deborah ha commentato il mio articolo sulla lettera in cui Papa Benedetto parlava dell'insonnia ed essendo una fine normo ragionante a tratto delle conclusioni che sono assolutamente razionali e condivisibili. Ascoltiamolo insieme. Passiamo all'ultimo argomento che è relativo a Papa Benedetto perché Andrea Cionci ha scritto un articolo estremamente interessante che parla proprio dell'ipotesi sconcertante tratta da una lettera estremamente riservata inviata da Ratzinger sulle vere ragioni delle dimissioni del Papa. Lascio parlare Deborah che sul tema Vaticano, insomma, è materia tua, è più ferrata. Allora, era successo già, ne avevamo sentito, cerco di essere brevissima, qualche mese fa era uscita questa cosa secondo la quale Papa Benedetto si era dimesso perché soffriva di insonnia. Ebbene, Cionci è riuscito ad avere da Peter Sivald, che è il biografo ufficiale di Papa Benedetto, una lettera autografa originale, con scritto riservata e personale di Papa Benedetto nella quale raccontava la vicenda di questa insonnia. In poche parole, riassumo, Papa Benedetto era costretto a prendere barbiturici per riuscire a dormire, ma una mattina si è svegliato ferito perché evidentemente la notte prima aveva avuto un'overdose di barbiturici. Siccome i suoi medici erano molto attenti, gli davano le dosi giuste e tutto quanto, da quel momento in poi al pomeriggio è stato proibito a Benedetto dai medici di avere attività lavorativa pubblica, perché si è sospettato molto fortemente che qualcuno sia riuscito a far scivolare in un caffè, in un tè, in un qualcosa che ha preso Benedetto la sera prima, un'ulteriore dose di barbiturico. Quindi qualcuno che sapeva che lui prendeva i sonniferi, gliene ha fatti avere, gliene ha spropinati un'altra piccola dose, e quanto bastava per mandarlo in overdose e a 85 anni probabilmente ammazzarlo. Questo fortunatamente non è successo, ma ci si è ritrovati a correre continuamente il rischio che Benedetto fosse avvelenato a causa dei sonniferi che era costretto a prendere per poter dormire. Questa cosa, poi vabbè se leggete l'articolo dice, non ce lo spiega molto meglio di me. Questa cosa a me mi ha dato da pensare due cose. Primo, il fatto che a Cionci questa lettera l'abbia data Peter Sivald, che non è l'ultimo arrivato, un blogger complottista, ma è un autorevolissimo giornalista e scrittore tedesco, che ha scritto tre o quattro libri insieme a Papa Benedetto, cioè raccogliendo le confidenze e le sue, diciamo, in dialogo con Papa Benedetto, un giornalista che ha lavorato a Der Spiegel, a Stern, quindi un giornalista di assoluta autorevolezza, il quale quando ha sentito Cioncino gli ha detto ah ah, lei ciarlatrano, attaccandogli in faccia. Ma non solo gli ha dato retta, ma gli ha fornito una lettera autografa di Papa Benedetto che era riservata e personale, evidentemente lo era fino alla sua morte e poi pubblicabile dopo la morte, perché Sivald non penso che disobbedisca alle volontà di Benedetto in questo modo. Ecco, in effetti io posso confermare che quasi subito dopo aver pubblicato l'articolo ho chiesto ai miei amici lettori e traduttori di curarmi una versione in tedesco, limare una versione in tedesco e l'ho mandata al collega Peter Seval, il quale per adesso ancora non si è fatto sentire. Non so come reagirà nel prossimo futuro, lui conosce la mia inchiesta e tempo fa gli ho inviato Der Ratzinger Code, il libro nella versione tedesca che troverete digitando Cionci, Andrea Cionci, Amazon, troverete tutte le versioni in lingua del codice Ratzinger e lui senza batter ciglio e senza sbilanciarsi è stato molto cortese e mi ha fornito la lettera di Papa Benedetto, forse non tutta, perché di quei tre fogli me ne ha mandati due e mezzo. Difficile ritenere che Papa Benedetto non lo avesse salutato cordialmente, quindi credo che Peter Seval abbia ritenuto opportuno non divulgare una metà della lettera, forse magari c'erano delle cose personali, non lo sappiamo. Comunque siamo molto grati a Peter Seval per questa sua generosa concessione di permettermi di pubblicare questa lettera per la prima volta tutta di fila, che lui l'aveva pubblicata su Focus a gennaio 23. Ecco, credo, credo che questa pubblicazione sia avvenuta dopo l'uscita di Nient'altro che la verità, dove c'è una versione molto diversa e che non collima affatto con quanto scrive Papa Benedetto in questa lettera, che è l'unica fonte attendibile. Abbiamo visto come in Nient'altro che la verità ci siano molte cose che non quadrano. Il mio sospetto è che questo libro sia stato manipolato da altri e per questo motivo Monsignor Genswain avesse chiesto di ritirarlo. Vedete, questo è tutto un rimpiattino fra la verità e la menzogna. La verità dice una cosa e la menzogna cerca di ricoprirla mimetizzando, mascherando a modo suo. Bisogna essere chirurgici. Bisogna utilizzare il bisturi, il bisturi del logos, della ragione, e evidenziare tutte le contraddizioni di chi vuole mistificare, di chi vuole darvela bere. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie ancora ad Arnaldo Vitangeli e a Deborah Billi, iscrivetevi a Il Puzzle se non l'avete fatto, grazie a tutti coloro che hanno voluto sostenere questo canale. Un caro saluto a tutti. Grazie a tutti.